Il Whirlpool attraverso questa iniziativa regala 4.000 ore di volontariato a tante realtà come la Lega del Filodoro che si occupano di persone in grande stato di necessità con una qualità e una professionalità altissima. Sono convinto che siano esperienze che rimangono, che hanno un grandissimo valore formativo, che ci insegnano nel rapporto con gli altri a scoprire dimensioni nuove, di quello che possiamo fare, di come possiamo cambiare lo sguardo sulle cose. Una realtà di grandissima eccellenza è quella della Lega del Filodoro che ben si presta a incontrare chi mi ha una proposta così avanzata. Un bel modo di fare impresa e dentro un bellissimo modo di seguire persone in grave stato di bisogno.